La Millor rimane per la nostra gamma un cavallo di battaglia, perché pur essendo in produzione da qualche anno, parliamo ormai di 4 anni, però rimane una delle cappe decorative più vendute e più apprezzate. Questo perché ha un design assolutamente pulito, predevole, ma allo stesso tempo è anche una cappa altamente performante, per cui con la possibilità di aprire il pannello superiore per favorire l'estrazione dei fumi e montando dei motori altamente performanti il prodotto è a tutti gli effetti ottimo anche come capacità di aspirazione.